Numerose le gallerie d'arte costrette a chiudere in tutto il mondo in seguito alle misure adottate dai governi per contenere la pandemia. In questo caso è la tecnologia ad avvicinare gli artisti e le loro opere agli appassionati e ai curiosi, come nella mostra d'arte in streaming organizzata da Spazio Arte Petrecca in occasione delle festività natalizie. Un'esposizione di artisti che potrà essere visionata e seguita attraverso i canali Facebook e Instagram della Galleria del Centro Storico di Sernia. Il mondo dell'arte, così come il mondo museale, ha risentito moltissimo di queste nuove norme. I musei sono attualmente chiusi, le gallerie espositive come questa sono chiuse, però ciò non significa che non possiamo trovare un modo che ci faccia restare uniti virtualmente tutti. Da questa considerazione è nata questa idea di fare la prima mostra virtuale di questa galleria, dove abbiamo esposto vari artisti che si sono succeduti negli spazi espositivi nel corso degli ultimi cinque anni. E poi un'iniziativa collegata a questa mostra virtuale, anche fatta come esperimento per restare insieme, è questo regalarte, cioè lo scambio, diciamo, gratuito di alcuni lavori di costo molto modesto, il cui ricavato poi verrà devoluto in beneficenza. Una visita virtuale nel mondo degli artisti contemporanei, con approfondimenti, curiosità e dettagli coinvolgenti, narrati dalla storica dell'arte Carmen D'Antonino e dal gallerista Gennaro Petrecca. Leda, Criezio, Lipinska, Francino, Ciaccia, Dattellis, Keziat, Schiff, Cammarano, Marinelli, Pannunzio, Franchitti e Dinunzio, in un percorso illustrativo che terrà uniti gli artisti e gli appassionati in un abbraccio virtuale. Artisti che vanno da una tradizione più antica, che richeggiano l'antico attraverso la mitologia, attraverso anche quelle che sono le diverse gambe cromatiche, ma anche attraverso la ritrattistica, fino ad arrivare a un'arte concettuale, un'arte che è molto più vicina alla psiche umana e sicuramente oggi andare a scavare i meandri della nostra indagine psicologica è molto importante. Quindi vedremo artisti qui illustrati attraverso la narrazione, il racconto fatto da me e il gallerista Gennaro Petrecca, di questi artisti che veramente sono stati straordinari.